Francesco Pacini, nuovo portiere del Mone, insomma un onore per te indossare questa maglia così importante. Assolutamente sì, io ci tengo anche in maniera pubblica a ringraziare la società per la possibilità che mi ha dato. È un grande onore essere qui, è anche una grande responsabilità. Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa nuova stagione? Disputare una grande stagione e farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa dall'allenatore. Due settimane di ritiro a Fanano, hai avuto al tuo fianco Narciso, insomma un allenatore esperto che sicuramente ti avrà dato una mano. Sì, non ci conoscevamo come Antonio, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci in questi 15 giorni di ritiro e sono rimasto piacevolmente stupito sia dal portiere sia dalla persona. Credo che potrebbe essere molto importante insomma sia per me che per Gagno avere accanto una persona come Narciso che ci può far crescere molto. E che rapporti invece con Mr. Zironelli? Non ci conoscevamo, abbiamo avuto modo di conoscerci, è nato un buon rapporto. Sto cercando di seguire le sue direttive al 100% dal momento che anche per me è un calcio totalmente nuovo. Hai già avuto un'esperienza in Serie C lo scorso anno a Teramo? Sarà un campionato totalmente diverso perché è un girone sicuramente duro, però insomma tanti derby e tanta voglia di fare bene. Sì, lo conosco questo girone perché appunto quello che ho fatto l'anno scorso e so quanto è stato difficile e quanto siano impegnative tutte le partite in questo girone. Sarà, come ho già detto, un girone che è quasi una Serie B quindi dobbiamo farci trovare pronti e pedalare al massimo. Per adesso sembra che non ci sia un titolare della porta. Tu speri ovviamente di vincere la concorrenza con Narciso e con gli altri portieri e i tuoi colleghi. È chiaro, tutti noi abbiamo la voglia e il desiderio di giocare, però credo che chiunque avrà la possibilità di difendere la porta del Modena lo dovrà fare con grande entusiasmo e con grande senso di responsabilità perché una piazza del genere credo che meriti il meglio. Quindi tutti e te cercheremo di fare il meglio possibile per questi colori. Grazie.